Cari amici iscritti e non iscritti al mio canale, ho dovuto fare questo acquisto perché praticamente con questo caldo, questa afa improvvisa, la notte uno lascia le finestre aperte. Che è successo però? Che mi è entrato un pipistrello, e allora sono subito corso al riparo e ho comprato questa zanzariera da montare alla finestra. È una zanzariera che si avvolge, quindi uno la può sollevare sopra in alto oppure la rimette in giù in basso a seconda delle esigenze. Il giorno si leva per non fare ombra e la sera si rimette, quando si apre la finestra si lascia aperta tutta la notte. Adesso sto studiando le istruzioni, per il montaggio, poi vi farò vedere il montaggio. Speriamo bene che ci riesco a montarla, anche perché costa pure ricchi soldini. Ok, allora queste sono le istruzioni per il montaggio. dove viene rappresentato gli utensili occorrenti alla prima parte del pannello, gli utensili occorrenti, le ciavite, pinze, eccetera, seghetta, seghetta a ferro, e poi si incomincia misurando, numero uno misurando, due tagliando il pezzettino che avanza, tre inserendo il coprirullo laterale, tre, cinque, sei, sette, otto, nove, questi sono quelli verticali, lo stesso misurarli per potagliarli, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici e sedici. Nelle avvertenze dice, praticamente dice, che la zanzariera ha una funzione esclusiva di proteggere l'ambiente in cui è collocata dall'intruzione di insetti e piccoli animali, tipo, non lo so, quelli che mi sono entrati a me. Ogni impiego diverso, o non specificatamente descritto, deve essere considerato improprio, e pertanto se ne viene dall'utilizzo. Qualsiasi modifico effettuato dal prodotto della terza non viene autorizzato, ma adesso è stata considerata l'installazione del comando di eseguire tendentemente le istruzioni. Quindi va benissimo per il caso mio, perché quando arriva il pipistrello, incontra la zanzariera e ci sbatte addosso, non credo che l'asconderà, io non ci credo, perché magari quelli vedono la luce e entrano dentro. Ok, allora, passiamo alle operazioni qui descritte. Allora, per prima cosa misurate la luce della finestra, se ci sono degli stipiti in travertino, oppure normalmente l'intonaco classico, misurate, io ho misurato in basso e è 98,5, ma bisogna misurare in alto, quindi prendete una scaletta oppure pure con una sedia, ci arrivate. Con una sedia misurate in alto e ho visto che è 98,5, bisogna tagliare preciso. Allora, sotto ai 98,5, sopra invece è 98. Ecco qua. Alla lunghezza 98, di mani tagliare, alla lunghezza 98, dobbiamo sottrarre lo spessore di questo laterale qui, che è 8 mm. quindi dobbiamo fare 98, meno 8, 97 e 2. Ok. Noi andiamo a segnare a 97. Oppure 98 ho compreso questo, quindi praticamente è 97 e 2. Andiamo a misurare. Allora, ho messo questo, 100. Possiamo poi mettere questo subito così e poi fare 98, perché questo l'ho messo così. Ecco qua. 98 ho messo questo. Ecco qua. Quindi praticamente è 97 e 2. Andiamo a misurare 97 e 2 e segniamo 97 e 2. Vediamo. Ecco qua. Vediamo. Ecco qua. 97 e 2 si segna. Poi si segna con me. 98 e poi si passa al taglio con la seghezza. Ok. 98 e 2 si segna con me. allora per reggere per reggere la vi dovete aiutare con una pinza altrimenti si muove quando ecco così manca un po' di più di questo tipo qui a scatto ecco adesso mettetevi comodi per tagliare perché altrimenti si dovrebbe fare con con una con un frullino vediamo un po' se ci riusciamo con la seghetta questa mi sembra che non manco taglio l'alluminio è abbastanza è abbastanza duro a me è un materiale un materiale duro non è tanto morbido cercate di andare dritti con il segno che è stato fatto poi se si comincia poi si va dritto io ho segnato pure laterale così riesco ad andare dritto e certo ci vuole un po' di pazienza però se avete a disposizione una presa piccolina per l'acciaio con quella si farebbe prima chiaro noi adesso qui non ce l'ho a disposizione facciamo con la seghetta sono riusciti a segare le sbarre delle prigioni con queste seghette per scappare non riusciamo a tagliare il pezzi più meno l'alluminio noi mi sembra va bene in effetti questa non taglio nemmeno l'acqua vado a vedere se ho un'altra lama che taglia ok vado a vedere la devo smontare la qui vediamo se ce n'ho una che taglia di più ecco l'ho trovata una vediamo se taglia di più vediamo 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 ecco qua devo lentare un po' per cacciarla perché altrimenti non esce da questo sistema che ci hanno fatto ecco vediamo un po' se esce già esce adesso e poi questi sono tutti uguali sono standard vediamo se esce eccola qua è uscita vediamo di metterci questa nuova il verso quale è questo mi sembra buona questa vediamo un po' ecco qua ecco qua ritiriamo forse taglia di più speriamo altrimenti abbiamo perso tempo mi sembra abbastanza andiamo a vedere se taglia di più mi sembra mi sembra che taglia un po' di più mi sembra vediamo queste sono cose che erano di mio padre quindi sono state usate non è che sono nuove ecco perché non tagliano e comunque con la pinza non posso leggere devo forza leggere in questo modo perché non ce la faccio a fare forza però questa taglia un po' di più sta andando bene ok adesso muovi il taglio perché il taglio è così magari ti metterò qui oppure 5 minuti per tagliarla qui Grazie. 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 Ecco qua. Ecco qua il pezzo con tutta la retina. Eccolo qua. Perfetto. Adesso andiamo a dargli un pulitino. Perfetto. Vediamo, andiamo a misurarlo adesso. Lo vado a misurare e vediamo se sta bene. Vi faccio così. Poi dopo andiamo a fare il lavoro del montaggio. Adesso non mi serve. Anzi, no, no, prima di misurarlo montiamo questo, praticamente il, questo qui. Lo speculare di questo. Ecco. Però, ogni mattina io la vorrei guardare ma non c'è, però è venuto molto bene il taglio. Andiamo a montare questo speculare di questo, che sta qui nella scatola, giusto? Eccola qua. Ecco qua. Qui ci sono i tasselli per fissarla alle pareti. Quindi, questo non lo so che essere, lo dobbiamo vedere che cos'è. Allora, questo è il... Lo strutturare di questo. Questa è quella per abbassarla e sollevarla. E queste credo che siano dei viti. Sì. Sono dei viti per mettere il tassello. Vado a prendere un cacciavite. Ho preso il due. Ok, allora andiamo a mettere questo. Non ci possiamo sbagliare perché il verso è questo. Non è giù. Ecco qua. Vedete? A vedere com'è qui. Per non sbagliarmi. Vediamo com'è fatto questo. Ecco, questo è preciso. Così. Sono due vitarelle. Hanno due viti. Uno e due. Andiamo. Scusa. E qui. Scusa. 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 La parte interna. E la parte interna. Così questa va. Ecco qua. Così. O bisogna bloccare pure questa. Anche altrimenti se ne vanno di fare. Va bene che una volta che stanno sulle guide non succede per niente. Comunque eccola. Questa è poi il buono che può spostare. Questa è la parte alta. Ecco qua. Adesso andiamo a preparare quella laterale. Quella laterale che la mettiamola qui. Che sono due. Allora. Vediamo cosa dice qui. Ma no. Aspetta. C'è il numero. Qua c'è il numero. Sei. Che dice di montare. Una volta. Il numero cinque. Il numero sei. Dice di montare questi copri. Questi qui. Eccoli. Questi vanno a coprire. Questa parte qui. Eccola. Questi vanno a coprire. Non so se vedete bene. Che lo vedete. Ecco qua. Questi vanno a coprire. Questo. Ecco qua. Numero sette. Perfetto. Eccoli qua. Questi qui sono. Pure questi vanno un po' duri. Ma è normale perché. E questo per non far scorrere pure questa. Serve sempre non far muovere questo. Questo per questo. Però questi devono stare così qui. Devo fare un martellino. Che devo fare? Fali entrare. Non entrano. Non è che c'è un marmerzo questi, no? Infatti c'è un marmerzo. Facciamo con questo. Quella era dell'altra parte. Questo. E' destra. E questo che c'avevo prima. E' sinistra. Eccolo qua. Infatti non entrava perché è quello l'altro. Non bagliato. E questi servono per non far scorrere. Per non fare la ragazza. E' un'altra parte che non ce ne esce più dopo. Ecco qua. Questo è quello di sinistra. Vedete? Non possiamo sbagliare perché. Non entrava lì. Ma proprio perché. Qui c'è una guida. Ecco qua. Vedete che adesso non scorre più. No no. Sta studiata bene. Non sono cretini quelli che l'hanno fatta. Chiaro. L'hanno studiata. In base alle esigenze della persona. Quindi adesso il numero 6. L'abbiamo risolto. Che c'è rimasto ancora? Dei cosetti qui che non so che sono. Questi. Ah questi sono quelli per agganciare. Vabbè vabbè. Quindi noi qui abbiamo finito. Adesso il numero 7. Andiamo a misurare. Queste alte. E qui mi dice. L'altezza della finestra. Meno 46 mm. Bisogna fare quello che dicono loro. L'altezza meno 46. Bisogna tagliarli a misura. L'altezza meno 46. Allora questo è pronto. Lo possiamo mettere da parte. Mettiamolo qui. Andiamo adesso a misurare l'altezza della finestra. Grazie. 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 Vi faccio vedere lateralmente come devono essere incastrati. Eccolo qua. Vedete? Vi faccio vedere. Ecco qua. In questo modo. Adesso bisogna predisporre i buchi. prima che mi dimentico sotto ho montato le... quelle per reggere la tentina quando lo sta in basso. Sono queste qui. Eccole qui. Queste qui vanno montate. Queste che si vedono al numero 11. Queste vanno montate giù in basso. Sono quelle che reggono quando la tentina scende giù e si blocca. Poi si dira su e scorre qua sopra. Adesso bisogna semplicemente fare l'ultima operazione che è la numero 12, 13 e 14. Bisogna fare i buchi al travertino degli stipidi della finestra. Bisogna andare a segnare prima e poi passare all'operazione di fare i buchi. Ok? Allora, c'è un piccolo problemino. Questo qui è stato montato come dicono le istruzioni. Quindi l'altezza del mio vano della finestra è 151,2. Io ho levato 4,6. Come dicono loro. In realtà adesso l'ho provata e purtroppo è più lunga. E quindi non mi entra. Quindi perché io avevo fatto 151,4,6 uguale 146. E l'ho fatto tre volte. Non è che non l'ho fatto. Quindi io vi consiglio di metterci un po' di più. Quindi devo fare altre 2 mm minimo. Devo ritagliarla. Purtroppo la devo ritagliare. Meno male che è più lunga. Se era più corta era brutto. Perché giù in basso si vedeva il gradino. Adesso la ritaglio e risolviamo. Allora. Adesso l'ho montata. E ho visto che va bene. Le misure sono precise. Adesso devo semplicemente segnare i buchi. L'ho messa a 8 cm dall'esterno. Ecco qua. 8 cm l'ho messa. Faccio vedere. Adesso ho segnato. Per non rimisurare un'altra volta dopo. Ho segnato. Vedete? 8. 8. 8. Ricontrolliamo. 8. 8. Ecco qua. Adesso dobbiamo fare i buchi. Facciamo i buchi da 4. Per quanto riguarda la vite dell'alluminio. E da 6. Per quanto riguarda il travertino. Per mettere. Io direi che 2 a destra e 2 a sinistra. Sono buchi sufficienti. Qui ne è previsto anche uno in alto. Ma secondo me è inutile. Perché se ne metto 2 alle distanze giuste. Penso che basta. Ne avanzano. Non c'è bisogno nemmeno di metterlo quello sopra. Ok. Allora adesso andiamo a fare i buchi. Facciamo prima i buchi. qui con la punta da 4 al... Grazie. 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 Grazie.